A Taranto, nel Castello Aragonese, la prima edizione della Scuola sul volo suborbitale, organizzata dal Politecnico di Bari con la collaborazione tra gli altri delle agenzie spaziali italiana ed europea, un momento importante che guarda al futuro prossimo venturo, dobbiamo dire già iniziato, con lo spazio porto preventivato sulla base di Grottaglie. Il Politecnico di Bari, il suo rettore. Siamo qui per una scuola orientata soprattutto agli studenti di dottorato, a chi si avvicina un percorso di ricerca, ma che in realtà mette insieme i rappresentanti delle istituzioni, delle aziende e delle agenzie spaziali su un tema, quello dell'utilizzo della possibile infrastruttura dello spazio porto di Grottaglie. Un futuro già cominciato, insomma, per lo spazio porto di Grottaglie, un sedime sul quale da tempo ha puntato a aeroporti di Puglia il presidente Antonio Vasile. Grottaglie gode di condizioni iper favorevoli a che questa infrastruttura sia all'avanguardia dell'Europa. In questo momento i piani si sono leggermente rallentati, ma ciò è dovuto sicuramente allo scontro diciamo Russia-Ucraina, anzi Russia-Europa. Chiaramente adesso riprenderemo probabilmente entro i primi dieci giorni di ottobre con la presentazione dei progetti e l'avvio dei cantieri, di alcuni cantieri che completano tutta l'infrastruttura di Grottaglie dando il via sia alla piattaforma cargo ormai pronta ad entrare sul mercato per trasportare tutta la parte ortofrutticola prodotta in Puglia nel mondo e sia per quello che riguarda il progetto di desmanteling quindi distruzione degli aeromobili a fine vita che è un progetto in realtà non di fine vita agli aeromobili ma un nuovo inizio anche perché ricordiamo che a Grottaglie viene prodotta la fusione del boining che ci auguriamo continui ad essere un'industria fiorente per quel tipo di struttura industriale. Futuro assolutamente roseo dunque per l'arlotta, la formazione che si avvicina alle esigenze dell'economia. Il Politecnico per sua natura ce l'ha scritto un po' nel DNA se da un lato dobbiamo svolgere la nostra prima funzione di ascensore sociale il trasferimento tecnologico, il dialogo continuo col mondo delle imprese è un po' alla base della scelta di avere un Politecnico in Puglia. Finalmente diciamo così un'operazione sinergica non possiamo pensare di avere uno spazio porto senza avere quello che servirà allo spazio porto quindi si parte in anticipo, si gioca ad anticipo immaginando che il settore spaziale possa e debba essere un settore ad altissima forma di istruzione per ciò che riguarderà il futuro.